Quest'anno, nella domenica dopo Natale, celebriamo la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. È l'inizio dell'anno e la giornata della pace. Tre straordinarie coincidenze. Iniziamo quindi l'anno sotto la benedizione di Dio. Il testo del Libro dei Numeri ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. È il testo della benedizione di Aronne. Quindi iniziamo l'anno sotto la benedizione di Dio. Iniziamo l'anno sotto uno sguardo benevolo di Dio. Dio fa risplendere il suo volto su ogni persona. Dio non nasconde il suo volto, non si chiude gli occhi né davanti ai nostri peccati, né davanti ai nostri problemi, né davanti alle nostre difficoltà. Dio non nasconde il suo volto, lo alza. È il Dio della vicinanza, è il Dio dallo sguardo interessato, sensibile, non indifferente. E sotto questo sguardo noi iniziamo l'anno. Per essere anche noi custoditi, per ricevere grazia e perché ci sia concessa pace. Abbiamo bisogno di cominciare così l'anno, con parole di bene, parole di benedizione nell'epoca del sospetto, nell'epoca della maldicenza. Parole di fiducia. Il Signore ti custodisca, ti faccia grazia, renda propizio per te il cammino dei tuoi giorni. Parole di fiducia nell'epoca della crisi, nell'epoca in cui il futuro diventa incerto e a volte oscuro e per qualcuno forse anche potrebbe diventare motivo di chiusura o di disperazione. Noi vorremmo pregare per tutti, per ciascuno, perché invece nella vita ci sia ancora un po' della benedizione di Dio. Abbiamo bisogno di sguardi buoni, abbiamo bisogno di parole buone, abbiamo bisogno di persone buone che seminano benevolenza e benedizione. Allora incontriamo in questa festa Maria Santissima, la benedetta fra tutte le donne. Benedetta perché ha accolto nel suo grembo e poi nella sua casa il benedetto, la sorgente di ogni benedizione. Già così l'aveva salutata la cugina Elisabetta. Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Il Vangelo di oggi ci presenta Maria in un atteggiamento singolare, donna che sa custodire e diffondere bene, benevolenza e benedizione. E il suo atteggiamento è quello di meditare nel suo cuore gli avvenimenti che le erano accaduti. Questa parola nel testo originale vuol dire raccogliere i fatti che normalmente sono frammentati e raccordarli con il mistero, il mistero che sempre sopraggiunge e che sempre è una luce, è una presenza amica. A Maria erano capitati tanti fatti, non tutti subito comprensibili, molti sorprendenti e indecifrabili all'inizio, ad un primo approccio. Ma la singolarità di Maria è stata quella di custodire e meditare nel cuore, di non lasciare perdere nessun frammento e di collegarli tutti ad un avvenimento, all'avvenimento della grazia, all'avvenimento della presenza e della vicinanza di Dio. Fatti collegati al mistero. Potrebbe essere anche questa l'indicazione per il nostro cammino di quest'anno. Non essere precipitosi nel giudicare i fatti, neanche quelli più complicati, più difficili. Saperli affrontare con un atteggiamento di attesa, di invocazione, ma soprattutto saperli collegare con l'origine e la fonte di ogni benedizione. È la grazia che chiediamo all'inizio di questo anno a tutti un buon anno ricco della benevolenza di Dio.